Humanista, politico, machiavelli ovviamente, machiavelliano, sul pensiero della critica del capitale e questa formidabile miseria che ha determinato. Humanista, politico, machiavelliano, sul pensiero della critica del capitale, sul pensiero della tirpitica, questa formidabile miseria di seri, questa formidabile miseria, questa formidabile mistero, questa formidabile miseria di documentazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.